ciao a tutti ragazzi oggi voglio far vedere il video di stasera dell'estrazione del 18 ottobre non si è preso granché quasi niente direi però ho visto in uno dei miei programmi 18 giovan terza versione che su cinque numeri si sono presi tre numeri comunque sempre un risultato positivo io nelle mie non ho fatto nulla stasera anche nel 8 non si è preso granché e niente voglio far vedere questa brevemente allora ho già digitato sul programma 18 18 giovan terza versione che vi lascerò comunque tutti i link sotto il video come sempre allora il 43 preso l'11 no peccato è crescito 12 il 25 no il 47 preso e il 14 preso quindi tre numeri su cinque di questo programma 18 giovan terza versione e volevo far vedere questo video per far vedere questo risultato positivo e niente ci sentiamo alla prossima mi raccomando cliccate sul like se volete come sempre iscrivetevi sempre di più mi fa piacere e guardatevi i miei quadri i miei dipinti su john art gallery sia su facebook che su instagram john art gallery gianfrancosini sono io potete vedere lì poi ho fatto delle musiche strumentali comunque su youtube potete vedere un sacco di cose nelle playlist e niente ci sentiamo al prossimo video vi saluto vi ringrazio continuate a seguirmi e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti ciao